Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis e laureata in scienze della comunicazione, con Bonolis ha avuto tre figli, Silvia, di 19 anni, Davide, 18 anni, e Adele, di 14. Sono un'imprenditrice soddisfatta della propria vita, dice a Lego. Non ho bisogno dell'approvazione altrui né di monetizzare nulla e infatti sui miei profili non troverete mai della pubblicità. Poi Sonia Bruganelli parla della visione. Che gli ha cambiato la vita? Padre Pio, che è stato tatuato sul braccio. Queste le sue parole. Sono sempre stata una credente non praticante. Poi però la notte prima che mia figlia doveva affrontare la seconda operazione al cuore ho avuto la visione di Padre Pio, nitida, davanti a me. Dal quel giorno la mia vita è cambiata, ho smesso di non essere praticante e mi sono dedicata al massimo nella chiesa. Padre Pio ha salvato mia figlia e io gli sarò per sempre grata.